Una donna impotente scalza con due bambini piccoli in braccio, coperta da un lenzuolo per nasconderla da sguardi indiscreti, alla merce di uomini armati che la circondano e la costringono a salire su un'automobile. Sono queste alcune delle immagini catturate alle 10 di mattina del 7 ottobre da una telecamera stradale situata a sud-est di Can Yunis, nel sud della striscia, poco dopo che un commando di Hamas aveva catturato i prigionieri nel kibbutz di Nir Oz, a pochi chilometri di distanza. Quelle immagini, recuperate dall'esercito israeliano sulla base di precise informazioni di intelligence, hanno scosso profondamente l'opinione pubblica israeliana. Perché sono quelle di Shir B. Bass e dei suoi figli dei capelli rossi, Ariel, quattro anni, e Kfir, che allora aveva solo nove mesi. I due bambini per i quali gli israeliani sono in ansia da oltre quattro mesi e la cui sorte resta incerta. Sulla base delle informazioni in nostro possesso, ha detto il portavoce militare Daniel Agari, abbiamo ragione di temere e di avere forte preoccupazione circa le loro condizioni. Facciamo ogni sforzo per raccogliere altre informazioni. Lo spezzone mostrato alla televisione ha sollevato una nuova ondata di sdegno nazionale verso i rapitori. Gliela faremo pagare, ha detto il premier Benjamin Netanyahu. Questo filmato stringe il cuore e ci ricorda con chi abbiamo a che fare. Sono crudeli sequestratori di bebè. Li trascineremo davanti alla giustizia. Non la passeranno liscia.